E' un onore stare qui con il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amico. Manda Signore la tua benedizione su questo luogo di cultura, il tuo Santo Spirito, i spiriti, tanti che entreranno e frequenteranno questo luogo, possa da questa nuova struttura ridata alla città, ripartire il sapere culturale ma il senso civile e civico di tanti giovani e di tanti uomini. La tua benedizione Signore discenda sulle mura ma soprattutto su quanti dirigeranno questo luogo di sapienza e di unione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amico. E' ora caldo. Guarda prima davanti. Taglio, eh? Taglio, taglio. Oh! E vai! Tagliato! Senza resta, per favore, perché se il mondo è il fatto di tutti, da adesso fino alle occhi di questa sera. Grazie. Grazie a tutti per essere io. Sì. Eccoci. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.